Ho sentito dire che io andrei in Europa a prendere ordini, guardi, questo lo vedranno i fatti, però una cosa gliela dico, non mi vedrà mai, perché io preferisco piuttosto dimettermi, presentarmi al cospetto di un mio omologo europeo, con i toni con i quali Giuseppe Conte andò al cospetto di Angela Merkel, a dirle che il Movimento 5 Stelle erano ragazzi che avevano paura di scendere nei consensi, ma alla fine avrebbero fatto quello che loro chiedevano, preferisco dimettermi che rappresentare una nazione del genere, grazie.